Ebbene sì, avete capito bene, ho rifiutato c***o mila euro di sponsorizzazione sul canale YouTube. Ma facciamo qualche passo indietro. A inizio gennaio mi contatta uno store cinese ormai diventato famosissimo, Temu. È diventato famoso nell'anno scorso sul mercato americano, quest'anno sta facendo tantissime sponsorizzazioni sui vari social online e anche io sono stato contattato dal marketing manager di Temu che mi ha proposto di fare tre video per loro sponsorizzati in cui andavo a parlare dei loro prodotti, dandomi anche una bella cifra. Al che la prima cosa che ho fatto, come farebbe chiunque di noi, sono andato su Google e ho cercato Temu. Ho iniziato a cercare chi fossero e cosa facessero. La prima cosa che mi è uscita, vabbè, oltre naturalmente al loro store, tutte queste sponsorizzazioni che si vedevano in giro. Beh, diciamo che all'inizio sembrava un modo semplice per portare qualche soldino a casa. Fino a che, però, non hanno visto un articolo di LifeGate. Molto ben fatto, in cui spiegava chi era veramente Temu. Ecco, diciamo che le cose lì hanno iniziato un pochino ad andare storte. Come riporta appunto LifeGate sul loro articolo, che vi lascio qua in descrizione se volete andare a leggerlo, Temu produce tutto il suo materiale che vende online in una regione della Cina dove il 90% dei lavoratori è minorile e sfruttato. E già questo sponsorizzare un negozio che sfrutta i lavoratori, anche i lavoratori minorili, non mi andava molto a genio. La cosa che poi, più di tutto, mi ha fatto dire no, questa sponsorizzazione io non la voglio fare, è che io sono andato sul loro sito e ho iniziato a cercare l'attrezzatura da montagna. Cosa ho trovato? Ho trovato bastoncini, ho trovato delle torce, per esempio, ma ho trovato anche dei discesori, dei moschettoni, e la cosa che più mi ha preoccupato è che su questo materiale di sicurezza in molti casi non era né riportato il marchio CE o era visibilmente contraffatto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quei prodotti non hanno probabilmente mai passato nessun certificato di messa in vendita che hanno invece passato i prodotti che compriamo in Europa. Vi faccio un esempio. I vari moschettoni assicuratori che troviamo in commercio di Petzl, Climate Technology, Ederid, Blood Diamond e via dicendo, sono tutti prodotti che hanno passato uno standard di certificazione. Vuol dire che sono assicurati per tenere tot e kN in caso di caduta, oppure, ancora più semplicemente, che magari non vanno ad aprirsi durante l'utilizzo. Dunque, dopo aver visto queste grosse anomalie, sapete cosa ho fatto? Ho preso, ho risposto alla mail di Temu e gli ho detto grazie, ma non sono interessato alla vostra sponsorizzazione. Il motivo in sé della rinuncia è stato abbastanza semplice. Infatti, questo canale YouTube, per tutti voi che mi guardate, nasce con due obiettivi. Il primo è quello di aiutare le persone a scegliere la migliore attrezzatura per andare in montagna. E il secondo è quello di aiutare tutti voi ad andare in montagna in sicurezza. E dunque, quando ho visto che un sacco di prodotti erano di scarsa qualità, senza marchio CE o senza nessun tipo di certificazione, beh, gli ho detto, no, io questi soldi non li voglio. Questo caso di Temu è stato probabilmente il più eloquente, perché gli assicuro che si parlava di una bella cifra, una cifra a tre zeri. Però ho sempre messo davanti ai soldi la mia etica personale e l'idea che c'è sempre stata dietro questo canale. Tutte le sponsorizzazioni che avete visto su questo canale, che ci sono state e che arriveranno, avranno sempre due scopi. Il primo, quello di aiutare voi in primis ad andare in montagna, sia con la giusta attrezzatura che in sicurezza. E poi, perché no, magari andare anche a informare e risparmiare qualche soldino sull'acquisto di attrezzatura, che non fa mai male. E dunque, eccoci qui. Niente sponsorizzazione, niente soldi, però sono felice con me stesso. Sono felice di non avervi consigliato dell'attrezzatura non di qualità, di non avervi consigliato uno store che, dati alla mano, non è per nulla sostenibile e sfrutta i propri lavoratori. Che dire, io sono veramente felice con me stesso. È vero, ho qualche soldino in meno, perché comunque, come vi dicevo, questi soldi non li avrei buttati via. Però, se a voi piacciono tanto i miei contenuti e vi piace anche questa etica, questa idea che ho di portare i contenuti sul canale, vi ricordo che potete sempre abbonarvi al canale, che con una piccola cifra ogni mese andrete a sostenere tutto il mio lavoro. Perciò, ragazzi, questa è la mia personale opinione su questo tipo di lavori e di sponsorizzazioni. Mi piacerebbe sapere da voi cosa ne pensate, un vostro giudizio. Vi aspetto qua sotto nei commenti, così ne discutiamo assieme. E nella speranza sia stato esauramente risostivo anche per questo video. Vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!